eccola qui villa bossia gallarate l'edificio liberti che l'assessore alla cultura massimo palazzi vorrebbe trasformare nella capitale culturale del seprio il pregio dell'edificio è ancora ben evidente per realizzare quello che palazzi definisce per ora un sogno servirebbero però degli interventi di sistemazione vediamo i segni dell'umidità sulla facciata del resto qualche anno fa i ladri si sono portati via i canali o quantomeno una parte di essi e questo non ha aiutato la conservazione dell'edificio gli infissi sono quelli originali così come le gelosie da ammirare ancora la scalinata allo stesso modo delle decorazioni delle balaustre che però potrebbero avere bisogno di qualche intervento di rinforzo